Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. E' stato presentato il progetto della nuova scuola fedele romani di Roseto degli Abruzzi, un plesso modernissimo finanziato con 10 milioni di euro da fondi PNRR. La vecchia scuola verrà demolita lasciando il posto ad un plesso nuovo di 400 metri quadri che accoglierà circa 400 studenti. E' vero che abbiamo avuto un inizio burrascoso in merito a questo progetto, ma è stato un anno di interlocuzione propositiva con l'amministrazione comunale che ha recepito quelle che sono state le nostre preoccupazioni e anche le nostre proposte. E' stato fondamentale anche l'intervento dell'ingegnere di Ventura che ha cercato di tradurre in pratica quelle che erano le nostre necessità e devo dire che il progetto della nuova scuola è sicuramente un bel progetto. Devo dare atto allo studio che ha avuto veramente tanta competenza nel realizzarlo perché è riuscito a coniugare la storia del nostro territorio, della nostra scuola anche, nella prospettiva dell'identità della nostra scuola. Quindi abbiamo ritrovato degli elementi forti per la nostra identità che sono l'inclusione e l'innovazione e quindi diciamo che da una candidatura asettica possiamo dire che oggi è venuto fuori un progetto che ha un'anima, un cuore e un'identità. Una struttura che sarà completamente antisismica e che produrrà energia rinnovabile l'inizio dei lavori è previsto per gennaio 2024 e anche, secondo i termini del PNRR, avranno durata due anni. Un lavoro sinergico tra i progettisti, la scuola e il comune. È stata una delle prime azioni del PNRR, della mia amministrazione, nella città delle prospettive che abbiamo sempre sognato e che stiamo attuando. Una nuova scuola, Fedele Romani, scuola futura, 10 milioni di euro, un investimento importante, una progettazione importante che viene carata dal Ministero sul nostro territorio e oggi, come abbiamo visto da questi fantastici rendering e da questa presentazione così accurata, davvero ha messo insieme il desiderio dei tanti genitori, il desiderio degli insegnanti, la prospettiva di un'amministrazione, insomma una comunità che ha saputo collaborare, ha saputo mediare, ha saputo trovare anche delle soluzioni, quelle importanti per far sì che ci sia una scuola innovativa, una scuola che possa davvero accogliere le future generazioni in sicurezza perché ricordiamoci che si parte da un'analisi di vulnerabilità sismica con nuovi spazi, con nuove prospettive, con nuove possibilità. Tutto questo senza tra l'altro danneggiare o comunque ostacolare quello che sarà l'occupazione della stessa durante gli anni in cui si svolgeranno i lavori.